C'è una percezione molto vecchia legata a quello che erano i vecchi paradigmi della fabbrica. Dobbiamo ricordare però che il manifatturiero riveste un'importanza fondamentale nella creazione di valore economico perché per ogni posto nell'industria ci sono tre posti nell'industria dei servizi. In più dobbiamo anche dire che oggi è cambiata moltissimo la fabbrica. La fabbrica oggi è e sempre più sarà un concentrato di tecnologie dove l'automazione, l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati, la progettazione con strumenti sempre più avanzati la farà da padrone. E quindi si sta trasformando da un luogo di lavoro manuale sempre più comunque ad un luogo di lavoro intellettuale e dove sono necessarie competenze molto avanzate che possono dare una grande soddisfazione professionale e umana ai nostri giovani.